no no come si gioca nico no dai nico no chi vi chiamo gaga non avete badato hiper no io prendo il nero no giorgio pensavo avessi votato film e che cazzo che personaggio di merda ma schifo il cazzo io prendo il barrier così vado top con qualcuno e cerco di non morire io non vado a mid questo è proprio sicuro almeno io io manco ci vado io allora giorgio verrei con me voi pensate che sono mid ma è realtà io lo smite si ti metti il super si voi pensate che io sono mid ma è realtà sono smite io vado a pivano io vado a omniston io vado attack speed ok allora io vado a pivano c'è un geoletroshock pronto che si gioca attack speed mamma mia è l'unico modo decente di giocare nico non è vero zitta non sa nemmeno lei perché sta troia ma tutti danni e attack speed passiva lo so però ecco dico ci dice ci dice se la passiva io che c'è la passiva inutile non posso prendere segnare però fucile a pompa con tutti i peller che ti attraversano la cassa ragazzi ragazzi se ti trasformiamo in nico loro non sanno quale nico è ma eh si considera la maggior parte delle mappe c'è bella la bottling suona il 70 per cento dei muri è wall bangabile eh madonna è bello zitta perché è impossibile inizializzare il dispositivo grafico oddio e vabbè abbiamo perso come è impossibile inizializzare il dispositivo grafico devi un attimo oh ok facciamo del nico nice sentate perché è l'omnistote lo volevo provarti l'ha detto che ci andava omnistote io questa è la sua nota che gioco nico contro è un champion del nico è un altro champion quindi te li farei tutti non intendo proprio giocare manco tutti i tempi quindi arriverà ivern con omnistote no no ivern non ce lo voglio più giocare tutto il pusciolo con la vp comunque è rotto raga c'ho 12 kish non credo siano bot andre colonia c'è certe pippe oh guarda oh guarda divento nico io nico ma sono io nico oh si super simple ah no super simple non c'è Giorgio vieni oh mio dio comunque ho capito quella verifica ho capito qual è il problema si cambia il nome oh ci trasformiamo tutti nello stesso tipo io sono fragment io sono ricky no no tutti lo stesso vai 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 chi aspetta ma puoi trasformarti in te stesso si quindi log male no c'è ancora l'aura della trasformazione eh tutti quanti diventiamo tutti Giorgio tutti Giorgio ma io devo essere me stesso si comunque è un personale che sembrava che stai Giorgio è quello dell'aria tipo in realtà no Fede perché considera quando stai in aria la mira ti va a puttana aspetta ma no aspetta possiamo tratturarci con quello con più addi si puoi prendere degli eye ground ma non è l'unico personaggio con cui puoi farlo Fragolo con più addi io mi trasformo in fra ma che c'entra non me lo dare mica guarda ogni più addi nooo si sai beh troppo cotto in chi ci dobbiamo trasformare? in Giorgio si ritrasformati già perché Giorgio ha perso HP si Giorgio io voglio andare a fare il tryhard faccio il push con la deagle oddio il rumore il rumore dello sparare della deagle orgasmo no oh Giorgio che lottume che lottume bellissima ma la passia fa danni anche sulle torri si serio? si ah ma che schifo ah bilanciato oddio ma che repulso umano perché? che repulso umano ma vabbè fai schifo che cazzo che bello col che ha dc vai fra quando vuoi mamma mia aspetta pushiamo no non ripulso ti piace vane il bilancio di uff io so che Daniele abbiamo fatto no fratello abbiamo usato la W insieme così non sanno a chi cazzo colpire che sta succedendo non credo che venisi stia divertendo molto contro questo sta diventando ritardato me la capisco neanche io non ho ancora incontrato nessuno con la deagle voglio dire che fanno il prossimo fight se finiscono il flash che cazzo di cancro cazzo merda non ho mana non ho mana divento te stesso oh no c'era il flash ataku ataku che cazzo è ma c'è tutte le spell ma che ingottume che ingottume che bel champion aspetta no perché hanno preso una rumena per doppiare nico attaku attaku dai ammettete che è un bel champion ok adesso divento te frappi mi sta a fare il mio sonico divento zedant che cazzo di versi fa nico ce la fa io ho preso la torre non vorrei dire ma ce la fa parlare come in umano normale zedant è uscito mi ritorno in zedant non credo che cazzo di versi fa non credo niente a faccia questo posto cos'è questa cosa ma cos'è questa cosa guarda adesso con la guinzo quanto push guarda adesso con la guinzo si no no ma che no 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 dico maletizia fa spiazzare un robot che shotta no non shotta fa 65 HP e se lo distrugge se lo distrugge prima che esplodare è più tardi lo devi distruggere prima che esplodare penso che fossi più veloce è bello giocare in nico e in ara che usi da pala di neve ulti prima di andare con la pala di neve che fai tipo pendek oh ma che cristo perchè ce l'hai con me non metterti io prima faccio finta di essere giorgio cambia tantissimo tranquilli ragazzi saremo anche tank dopo questo bravo oh shit ho fishato malissimo miei 25 gol ci stanno tre beni però non possono fare illusioni aspetta lasciamene una non c'ho mal tutti miei tutti miei w w bombardala giorgio mamma mia che sei questo champion è bellissimo no vabbè ma che cazzo no ti sei seccato da solo vaffanculo ma bacca cari devo giocare con un mal fai jungle e un corchi add carry io sono davide in realtà io sono davide ok allora io divento riccardo oddio che cazzo non c'è un cazzo di vita io divento riccardo loro non lo sanno che non c'è un cazzo di vita siamo tutti e due con poca vita eh poi facciamo il sorpreso la vain mid non torna più è venuta top è morta di nuovo oh e di chi cos'era oh no il ca... oh attuai che liscio vai che schifo hanno visto una scena botlin perchè voi avete delle vain ritardate perchè le armi intera sono così enormi pesa devo non essere visti stupido stupido royaccio busciamo vai quinzo vai quinzo a voi state pushando come debba stare per lo stinger ovvio vogliamo i gold gli diamo il gilio divento zealand non rovinare il mio nome con le tue capacità no 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 aspetta minimo anche di avere il red si si anche l'atta crancho vabbè, l'atta crancho ok devo recullare perchè ho 3000 iiiiiiii via ho trovato il predator quindi io ho trovato il predator per vedere nicole di cairi con katelyn support e funziona il mio milano di ranger ciao fria tranquillo ho fatto una kill No Giorgio Sembra Yoshi Yoshi Cosa? Mi piace questo Ti piace? Io ho capito che cazzo è successo Hai fatto quadra? Sì Oh mio dio Mi piace questo shame Stavo mid poi ho detto Vabbè troppo lontano per aiutarvi Arriva il Predator con il Dombus È stato bellissimo quell'azione Perfetta adesso ho anche l'Hifesteal Abbiamo sanno come correre Come andare Ha giocato la lava Io non ho preso una kill Arriviamo noi Madonna santa quanto Nico 500 Nico La lorda Ma la smettete di pollizzarli Io ho tirato una e a caso L'ho presa e poi tutti gli altri hanno followato Ma bacca gare Quando lì ti si inneschi con il coso della Conad Cosa? Quando lì ti si inneschi Pari il coso per Sì per il coso del scanner Ma che è? La mia pastiglia è che non c'è animazione Io pensavo fosse C'è una vega Non c'è la mezza particella del coso C'è l'animazione Quello ricca dai Ma che cazzo vuoi? Io non me l'ho spettato Io non me l'ho spettato Ma che cazzo vuoi? Gli ho girato il meno GS Non c'è il soggetto Ma Grazie ragazzi Ma tu non lo usi mana Io mi faccio l'herald Oh un drago DJ vieni con me a fare un drago Il colo sta a fare l'herald Aspetta Le tinte e le kill sono buone da mangiare Oh no W W Cazzo sono rotte le ombre Un po' complicato Hai visto? In un sacco Ce la faccio a Familiar Quindi Quindi Vaffanculo Zed Tanto volevo il mana io Vaffanculo Herald 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 no Ok Paparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara Ok ora vi faccio vedere la bellezza di questo centro Oh ma dai Ma Le angolini proprio Eh si E' fatta apposta Perché tu debba Impararti le mappe E guardare in ogni angolino No, no, ma proprio io pensavo... Sai quando c'è long e poi c'è sinistra CT? O T, non so qual'è. Che poi c'è proprio l'angolino, c'è questo l'asse che mi ha spastato lì, cosa c'è l'acqua! Mi ha spastato su, cazzo! Che palio. DJ Risto quanto non gli ho fatto. No, no, no. Via, che c***o. Vabbè, ma, eh. L'ho fatto, ci ho messo venti minuti, fammelo usare, vaffanculo, no? Oh, io l'ho preso una kill, è incredibile. Non ce la faccio all'astitana. Che c***o, che c***o, l'ho preso una kill. Sì, ma perché io so quello che prendo gli screenshot per primo, quindi non posso sopolluovare con niente. Io so quello che fa la combo del cube primo, non prendo un c***o, no. Era il shot con la prima. Quella Vayne? Dove sta andando? Scappa, lei, scappa. Tipo in quel caso, vedi? Ahia! Raga, non pushate troppo, però, se no non c'è divertimento. Vaffanculo. Match point prendo l'Ares. Prendo il Guardian, dai. Il Guardian è molto forte. Merda il Guardian, non ci è tanto. No, il Serant. Ecco voi. Cosa vuole il tuo essere dal mio? Stavo a prestare col piccolo. Ma, ma, ma perché stai triatando così tanto? State già in base, sti foraci. Oh! Dio santo. Ma, guarda quello! Guarda quello! Guarda quello! Guarda quello! Guarda quello! No! Fai quittatemi! Oh! Ho preso la kill! Ho preso la kill! Ok, io.. Ok, io, con questo ho ufficialmente finito la mia build. Però che bello che hai fatto il game, non? Io non ho manco... Io non ho manco iniziate la build. Ma voi state finendo Rollano indietro No ma voi state finendo Io ho preso 2000 danni Dalla torre e comunque sono riuscito a farmela 50 No No Fammi l'interactive Ci fosse capitato Un assassin contro Probabilmente avrei preso sberle tutto il game Ma meglio Ma stai scherzando Sei un assassino un po' dirigente Vabbè se è zed che ti ulta il clone Si spera che non sia una positiva Vabbè Come sempre Io avevo solo la tristezza e la rispirazione Non so chi onorare Onoro Nicola 163 Quello più alto sotto di me era 70 Oh mio dio Non avevo la ultima Infatti è schifo Fan ed interactive Proprio very fan ed interactive E se c'era Ricky dall'altra parte Stava già bestemmiando l'amore Madonna Mi sta sfruttando l'olio Mi sta sfruttando l'olio Mi sta sfruttando l'olio Non mi sappiccio più No non farlo Hello Non farlo Fade please Ti flammano Ragazzi che c'è in più Non fanno ed interactive Andiamo adesso Perché mi flammano che c'è? Perché è una merda Eh vabbè Tanto che chi gioca alle competitive Siamo nella beta Porco 2 Eh lo so Ma diciamo Possono essere molte salti Su un gioco Sì è uscito Se un gioco c'è leg of qualcosa nel nome Sono tutti salti Eh sai com'è Ma non è leg of È qualcosa della raya Si chiama leg of avalora Ma fa quello fanno dello shorty Quello che cazzo si chiama Non mi ricordo Dio Arma rotta Bisciotta sta merda Mi sa Come mai sing Sì A caso Se ce l'hai davanti Non volevo giocare Vedi Infatti te lo so Vedi hai counterato Zedant Oh no Mi sta counterando la mente Caos Ragazzi Tranquilli ragazzi So io cosa prendere No No Vuoi mettere in lane Due muri Uno davanti Uno dietro Il resto Il sandwich Andiamo Cassa l'in Oddio Dio sta alloccato Non sbaglio Altra posizione Ragazzi Scenno Ci stai venuto Quattro scena AP Oh 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 Alla dove Accelerità Porco Oddio Ogni mada che capita Il cambiere mio Doge Noi mi sono Lotto il cazzo Tranquillo Ricca te lo picco io Ragazzi Adesso Tanto non lo ripicca nessuno Io te lo ripicco Un po' di stronzi Ma lo battano Dai dai Lo ripicchiamo La fastidio è che le armi droppate a terra Siano le troppe È tre volte Siano Una volta prendo Che ti dà fastidio Ragazzi Non ho capito Fede Che ti dà fastidio Che le armi droppate siano Enorme Per i ciechi Ok Forse si Batti Ma è abbandonata Fede gioca river Non mi ha dato molto fastidio Ma come non giro river Eh no Alcune li devi sbloccare Mammona che gioi Gioca Thorbjorn Thorbjorn Non si chiama Thorbjorn Thorbjorn Quindi Ora prendo Lo spettro Però non si sa Con elettroshock Scatto fasico Eletroshock Fidati In fight Li charmiamo tutti Ragazzi Io Io credo Nel Nel 10% C'è lo 0 Giorgio vota Gakan Giorgio vota Gakan Vai Giorgio Fetti Gakan Così vi farò vedere La mia superiorità Prendendo il 20% Celerità sinceramente Non c'è più senso Perché non baffa Nemmeno i danni Baffa ancora Infatti Io prendo K della nuvola E vado con La spettralità Ok Ma quello è quello Che fa Giorgio Di solito Giorgio Gli ha rubato il ruolo Ragazze Allora Ragazze Praticamente Oh fra c'è la schimbra Ma l'hai giocato Ragazze Sì però Allora frago Giorgio 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 Non devono capirci niente Tu praticamente Con la W Meni Con la Q Meni E con la E Scudi E si maxa La S E con la R Tu praticamente corri E se colpisci Tutti i nemici Fai un or Giorgio Giorgio Lo sai Giorgio L'hai giocato Ragazze 500 volte Sì ma io non so Come gioca Se è a P O a D Giorgio Tu usi lei Non va in mezzo Come va di giocarlo a P E come gioca l'A D Addio Faccio il danno col mantello Sì Il mantello del sole Ci armi tutti E poi li prendi a sberle Oh cazzo Come fa molta gente Chi so Non dimmi che sono dei tank Aspetta sono dei tank È peggio dei tank Io non vorrei dire ragazzi Ma guardate Il Zedent Sembra tipo Il piccione Ritargato Il gruppo E lo smite Il piccione Ritardato Che cazzo Se li ci armiamo Se li ci armiamo Facciamo il macello Ma se li ci armiamo Facciamo il macello Il problema è che ci ci armano Prima loro Esatto Oh due giochi Ci sono Due personaggi Col charme ci sono In questo gioco È tutto È vero tre Ah è vero Gragas Quello di Evelyn È per sfigare È bruttissimo Ah Evelyn Giusto Quello è bruttissimo Devi caricare Poi arrivi dietro Quello di Evelyn Fa schifo Esatto Come te Grazie Ehi dai Non lo so 1000 ms Non vuol dire Che sto laggando Non so La splash art di Aribase Mi dà fastidio Significa che È il ritardo mentale Di un secondo Stiamo lì Stiamo lì C'è un po' più Di un secondo Però Stiamo lì Non è meglio Aribase Idea in base Però No Questo deve Flexare la Edizione Origio Allora Primo item Leech Bane Bravissimo Riccardo Però Con lo gesto Di velocità Per grande Allora Per ingaggiare Facciamo che uno Va avanti Poi salta addosso Con la E Ci va E poi Gli saldi addosso Con la E E poi Facciamo Non posso Farme la titanica Io e Riccardo Abbiamo le ali Abbiamo No che non puoi Abbiamo le ali Io e Riccardo Aspetta Riccardo Ma se facciamo L'animazione Dixia Aspetta Vieni qua Io quitto Funziona No ok Non funziona Funziona la passiva Io quitto Traizzo di merda Comunque Secondo me dovrebbero fare Un chroma In cui diventa bianco Guarda quanto è bello Bianco A me piace Quello tipo Viola rosso Ma è bellissimo Quando diventa bianco Porca puttana Io non posso fare La titanica Io quitto In teoria Dovresti poterla fare Non posso Fragment Lo sai lo spam Che si fa con questa skin Se vero non puoi Lo sai che cosa si spamma Su questa skin Questo Questo si spamma Questo Eh si Si vuola E' appunto Nyeee 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 Sembrate due piccioni Che stanno cercando Di impressionare Un piccione Nyeee Nyeee Ti faccio devi fare questo No io faccio questo Facci così Sto schiccando l'ida C'è la mano molla Sto schiccando l'ida WTF Sono tank Vai smantelliamoli tutti Esatto Smantelliamoli Sopra Ha flashato Donna quanto Quanto tryhard Com'è l'Ares? Madonna Io non lo so Tore ancora quindi No l'Ares E' buono Però Ares è il cane di Expo Soltanto a breve Media distanza A lunga distanza Quelli sai che faccio Smoco in mezzo a Al corso Esatto Esatto E' lì Ma faccio Comunque Questa è una cosa che da Cura mi Cura mi Mitragliore che da Cazzo ma porco No Mi ha ci armato Ricca mi ha ci armato Sei pure morto Grazie Riccardo Per gli scudi Ragazzi Ero ironico Può interrompere la tablia Col charme Sopra le missione Sì Può farlo Danno Oh crisi Sto schiccando Sto schiccando Molto Ma vinciamo Vinciamo ragazzi Cheat Siete voi che non ci chiedete abbastanza Sì Infatti Infatti Veramente Io non ci chiedo un cazzo Sto Arrivati Abbiamo il TP Noi no Ma loro hanno un FK Tra l'altro No C'hanno il jungler Ah il jungler Bot ha pullato Altro è incogionito Suga Mio Ma Io preso il cannone Ma questa sta sotto torre Ebbè che deve fare Roborach Da solo Spida Ecco perché muori ogni volta Quando ti lascio da solo Sì Lo lei Lizza Dov'hai? Vabbè Va bene Oh Hai visto Rikà Hai visto Flash Ma la botta Inda Flash Davvero La botta Inda E vabbè Di tei non c'ho mano Io ho sveitato E vabbè Ah shit Che bel champion Che bel champion Vabbè il champion Il champion nostro Bravissimo Bravissimo Riccardo Mi impari Mi ha andato in pappa il cervello Ho visto tutto Mi ha andato in pappa il cervello Mi impari Riccardo Ma sai che sto pensando Riccardo Che forse non è quello l'item giusto da fare Il primo Vabbè Mi hanno mai shottato Ok Forse lo so io Qual è l'item giusto da fare Come primo item Mi hanno mai shottato No a salita di livello Quella ary mid Quella morita Mi chiama Eva Ammir Dove sei? Guarda la mia build E' Ammir Riccardo ma sei troppo forte Sto champion fa schifo Ma chi sta nella nostra jungle Che succede? E' quello di prima ti piaceva Questo fa schifo E' quello di prima ti piaceva Doppia Sì Che stronzo Che succede? Dov'è Bugo? Però ho fatto doppia Adesso sono fiddato Ok adesso vieni qua Arrivo arrivo Da dietro Pronto Bugo? Sei pronto Bugo? Vai Bugo ci sono Bugo 1 parla a Bugo 2 Bugo 2 Bugo che merda Bugo fai schifo però Bugo Che cazzo Bugo E' colpa mia se c'ha una ultica Ho 500 dash Scusami Comunque Fra No Potevo parlare di come il mirino Il mirino dei cecchini A Bugo NG La frase bevante Sai che erano notate Dov'ho andata Perché non li sto utilizzando I cecchini Bugo però Bugo Mi flasha Mi dà fastidio Bugo? Adesso non ce l'ha più Tu devi predictare i flash Bugo Sì Non è che ci possono Andrò a doppia il range Perché predicto Non è che indico al gioco Come ho predicto Adesso che regge Perché non posso Usare la E su me stesso Quella di te la giagrata È tutt'umorale Quei Bugo No Giorgio non mi abbandona Che devo fare Io la daiverei Fra che dici la daiviamo La daiviamo Fra Porco giù da macchiamato Ci vado Ovvero tra Quando uso il TP Guarda Bugo Quanto siamo forti Bugo Prendiamo le stack Bugo Scappa che è finito Il cuore tutto Finito Porta un cazzo Bugo Mi porta un cazzo Arrivo Adesso ingaggio Quanti ne sono Ah no Scherzato Ragazzi volete andare voi Controllari da sola Che magari ce la fare Magari qualcuno viene Mito Invece sta ridurando Incojoniti la No Stiamo pushando Noi sbattiamo i nostri ali Yeah Giorgio se ti piace questo champion Che bellissimo L'odio Passato da Mi fa schifo L'odio Mamma mia ragazzi Ma perché è un support Non è mago Porco Dio No è perché Stiamo giocando Controllari Arrivo Zeran Arrivo Ammira il potere Della Witsand Roboc Quindi ragazzi Adesso inizio a scalare La rodovergo Tempo di prendere Quel drago Riccardo Con quali danni Non ci abbiamo danni Non abbiamo la E E la Q Abbiamo sustain Va bene Ma via dal cazzo Potrei andarci Ragazzi andiamo Tutti al di là Chi? Sage? Sì Sage cura No Fenix Ah Fenix Se sta su fiamme Sicura Pure Pure È la Fenix In realtà C'ha tipo Una cura Di una cosa Come 20 HP Non è 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 Vieni qui Pocca puttana George Vieni qui Cosa vuoi? Ragazzi sto a piadi A sberle proprio secche Così Stuk E no K No Ah mi ha scelto George vai No George No George No Fragment Vieni qua Ho sentito le urla Di una maillata Ragazzi che andiamo No Io penso il mio motivo di vivere però che non posso fare la Titanic Beh Via ragazzi Perché dovete tornare così? Voglio dire Che state in negativo Non è Ma che cazzo? Mi hanno sparato Ai piedi mi hanno sparato Ari vuoi vedere come ti one shot guarda eh La mid la lascio a voi La jungle adesso è il mio domino Ma Guarda che danni Guarda che danni È finita la combo però È finita la combo Ha flashato Ha flashato Ha flashato Ha flashato Se io faccio metà vita con una combo Ma signor jungler Costii Devo recuperare un po' di livello Costecca Vai frega ci sto Vai vai Ingaggia 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 Dai vai su Salta Ci saldiamo su di te Il cotto fa schifo in jungle Prendetela 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 Stiamo saldando tutti sopra l'altro Facciamo di qualche catena di montaggio Io ho stato su due persone E poi non sono andato dentro Quella botta Quella botta Quella botta Quella botta Tranquilli ragazzi Riuscirò a uccidere queste rocce Oh Che cazzo Sempre a me Prendono Sberrala Il drago Il drago Mi fanno male Mi fanno male Mi fanno male Giorgio Scappa Ma pensavo andassi via Tu perché hai broccato il drago Zedent esattamente Volevo farlo Poi avete 3 yardage Il drago Arco Io Sono leggevo Io Sono noctun No non è vero C'è l'ary con lo smite Dove? Io non ho L'ary qua è quello con lo smite Però posso fare questo? Oh Vabbè La WP Ah Ah è vero Adi può cliccare le WR Giusto È un camion bello Guardalo Giorgio Guardalo Giorgio Che skill Ok Digia Sei pronto? Digia vieni qua Ok Giorgio Mi ci hai fatto credere un pochino Mi hai fatto sognare Vieni qui Vieni qui Vabbè Mi hai fatto credere Mi hai fatto sognare Mi hai fatto sognare Pronto Digia Porco di quel grandio cane Il suo cazzo di charme di merda Anche noi ce n'abbiamo uno Però il nostro è la ultimate Esatto Il suo non è una mossa del cazzo Davide Ah che culo Ti sei pure esambato Aspetta Zeran d'arrivo Guardalo Zeran d'arrivo Non puoi vincere l'otto attacco Non puoi vincere l'otto attacco Madonna Salta addosso a me Vai ricca Salta addosso a me Ha flashato Ha flashato Ma è morto Ha morto Tutta la cosa Questa è la questione Ma quanto vuoi stare Monster Hunter Tio santo Rakan Squad Roll out Aiuto aiuto Sto campion fa schifo Sì La fase di Rakan È che la sua cura Ahia Sto sshuttato Aspetta Eh Ah ah Eh sì Potevamo andare meglio Potevamo andare molto meglio Oh Sì ma non ci avvicino Perché tu vai troppo lontano Smettila di andare così lontano Mamma mia Mamma mia E io avevo capito che la WP Sto campion doveva non shottare Oh no Shotta 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 Attento a quella è fuggata Tranquillo Ho provato sulla mia pelle Tranquillo Ho provato sulla mia pelle Trave Perché non mi hai shieldato Ho shieldato due volte Tranquillo Ho provato sulla mia pelle Shotta shotta Non sto maxando lo spugno Andiamo andiamo Madonna santa cos'era L'avete umpata Va bene così La morte La morte Ma credo che tank Stia funzionando molto bene Ma tu dici Principalmente perché aria È un po' troppo sproke Sì è quello top lane Stavo debushando Sarà una bomba emozionante Ma il Monster Hunter Se ne va via o sta qui finchè non muoio Ma chi è il Monster Hunter? Monster Hunter è l'effetto che prendi meno gold Cioè lì te l'ho completato No se l'hai completato va via E non va via Cazzo Su capo Su di merda Oh porco di aria C'è Luca Non ho il Nokati Che cazzo sta succedendo Noi voliamo il Gino Se arriviamo in letto vinciamo tranquilli ragazzi Il charme è tutto Cioè il charme è tutto Ma come sono morto io Guarda che roba che combo Vai Giorgio vai avanti Salda avanti vai Bravissimo Se saldi ti seguo Vai salda su di me Mamma mia signori Quella all'altra C'è quella mid Ma ci vado io Dopo aver fatto lo snack Veloce però Eh con calma Con calma Cosa l'attore? Vi avete fatto prendere l'attore? Siete inutili E uno dove Quel graspo E il little jungle Ti ho sciotto Sì Sì Tu sciotti Oh Sono morto Non è vero Vai sguscia su di lui Sguscia su di lei Sguscia Sguscia All'attacco di nuovo Forza di mantellare Irritazione alla pelle Di facciare Le sfreghi Eh sì Con tutte le piume scuole Allora fa male Come se ti tirano Una scopa Inizio a me Natic Eh il mio problema Più grande è stato Che la E Non si arriva a un cazzo In lei Aia Fra arrivo io Fra arrivo Venissimi Sono io Il tuo obiettivo È un coglione È arrivato qualcun altro Vai Sgusciamo Vai Ricca Sguscia 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 Ricca Con l'out Con l'out Madonna Vai Sguscia Ricca Sguscia Sguscia Sono per match armato Ma sono io quello Che dovrebbe armare Guarda che team fight Che abbiamo Quelle mantellate Non lo uccideremo mai Sto drago Sono io Sono attacca Ma ci abbiamo Il sostegno Della madonna Sono attacca Spesso Non ne so che ci sto capendo Più niente C'è da sgusciare Sì Sì Sgusciate ragazzi Sgusciate Sgusciate ragazzi Oh aiuto Team Delta aiuto Sgusciate su voi stessi Andate Mi ha preso Mi ha preso Easy Lo sapevo che attack speed Era la scelta giusta Non ho capito Non sono sicuro C'è un Ari Sai com'è Scusate solo Ari Arrivo Arrivo a Zeeland Con la velocità della luce Aspetta Aspetta Due secondi Aspetta Due secondi Eh sì ma aiuto Ho gioco tutto questo Fa WRR WRRR Ti vendico io Vabbè Eh vabbè Niente è finita la combo Vabbè 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 E muori Perché fa schifo Ah ok Frato che a te lasciare poi Giorgio scappare con te No Facciamo l'intera mappa Eccolo Io no capo Ne volevamo Vabbè Giorgio mi fai danni I dannetti iniziano a farli Eh ma Giorgio c'è gabbadonna porcate che voglio Io fra un po' c'è gabbadonna Eh Giorgio ma è uno scorpeggiore del mio Tu hai visto 10-6 o 10-1 Ma davvero fa Sgusciate ragazzi Ancora un dash Sgusce Sgusce Si è un po' shottato Arrivo Ma riesco a farla una kill Non è colpa mia se non la fai danni Parliamo Guarda come corro Sembra che sembra un personaggio Giorgio Ma perché c'è ancora il Monster Hunter Ma tipo No ma mi sto a palla W Che merda Che merda Buongiorno anche a te Dicchia Benvenuti Eh dai Do Corri Giorgio Di te correremo Ti ammira il mio Attack speed Ma fammi vedere Eh sette Ma va a camminare Ammira Giorgio di faccia i mega danni Che pensi Che andrò ma non hai attaccato Beh Ma ho da 30 Ah 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 Non lo fanno WR Pagli Giorgio la teoria di branco Il branco Dello stormo Cazzo mai Andiamo Andiamo Ti andrò stormo Da teoria degli uccelli Andiamo Lo stormo di Rakan All'attacco Ma giù da poco Ma giù da poco Ma ma poco giù da Non mi sono potuto muore Ehm no Non c'è Completamente Madonna la casa Gesù Avete risciato tutto Dio che danno Avete risciato tutto Ragazzi E' una tattica Dello stormo di Rakan E' una tattica dello stormo di Rakan Scusate tutti i Zeeland E' quello che fa l'anni dopo la combo E' quello che fa l'anni dopo la combo Si è Zeeland Qualche modo C'è la trini Lui nera Che sta succedendo E' la trini Tranquilli ragazzi In late la vinciamo Si certo In late la vinciamo In un fight Prendiamo tutti il charm E poi rimangono charmati Per tipo 8 secondi Ehm Beh oddio Lo fa anche adesso Si si anche adesso Perché è 1,5 per 5 Ma io ho ancora il monster Guardate quell'anni Guardate Ehm 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 Vai fra Vado Ma basta Vabbè Se proprio devo Ah ci armo pure i million Oh Ci sono Ci sono Arrivo 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 Ah no Ok Finca però perdiamo un sacco di tempo Vai corrigli dietro Corrigli dietro Ah L'avete ci armata La nostra uccellanza è troppo forte Andiamo tutti a fare il drago La nostra uccellanza è troppo forte Oh madonna il drago dell'aria Oh madonna il drago dell'aria Il drago dell'aria Ci serve Ci serve tantissimo Secondo me Hai idea di merda Però va bene Zitto Zitto Yuki Curatevi Curatevi Usate il drago per curarvi Ragazzi No Ragazzi vai Scudi Scudi a tutti La prima dell'uccello Dai Dai Mena E ti è Cristo Molo charmo Molo charmo Stanno venendo da voi Vai vai Dopo un'ora e mezza Ce l'abbiamo qua Via C'è un'aria che sta venendo dalla mid lane Via Saresti ricollato di sta villaggiore Dopo l'arzi però non mi fido A parte che c'ho lo scudo Ragazzi mi serve una mano mid lane Non riesco a depushare Ci penso io Io ho attack speed necessario per fare queste cose Mica ma io mi faccio il Banshee Ma che ci penso Mica ma io mi faccio il Banshee Faccio la Badon un po' i Banshee Così il charmo ci pisce proprio Ma niente Stai Almeno un charmo Oh no Oh no Oh no Giorgio arrivo Giorgio ci sono Sto venendo a salvarti Cuori verso di me Eh niente Madonna santa Quella con i Banshee Non li posso saldo addosso Ah o te Ma che cazzo avete fatto Stavate ballando attorno alla roccia È tornata Oh Dio Giorgio ti sei preso tutto No Ma siete morti tu Sì Abbiamo morti tutta la necessità Abbiamo oltrepassato quella roccia Non so quante volte Zedant in base Quella non è Quella non è Quella non è la base Ma tryhard no? Tryhard Eh sì Sì Stato riattando Madonna santa che schifo Dai che merda Vieni qua pezzo di merda Oh Si è fatta la Banshee Che infame Vabbè ce la faremo pure noi Vedi si stia solo 3 secondi Arriviamo La Khan Squad roll out Oh vabbè tutti là Il Banshee Ok uno glielo tolgo Io volevo vivere però Uno vuole cliccare R Però quelli ci hanno Inciarna Tutti tiradritto Quanti pignoni ci sono qua? Vai tutti su un assessore Sì raga Sì raga Sì No volevo stirarla Tutti a sgusciare Non so sgusciare vai Tranquilli sono tank Io sopravvivo No esattamente Sei sopravvissuto a tazzini No 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 Vieni qui Vuoi via Guarda quella Guarda quella Guarda che schifo Guarda che schifo di donna Non fate danni dopo la combo Fate schifo Ma non vai Ma non lasciamo più di noi Guarda Loro lo sanno Guarda che fami però Può accadere Un po' di divertimento Ma loro lasciamo più di noi Non vai Ma santa Comunque Ari Credo che è il cammino peggiore Che può dare la peggaccia contro Madonna Qualsiasi altro cammino Noi probabilmente vincevamo Questo no Un cammino che ci sciarga Io li stavo attaccando a morte Di chi ha visto il potere Del racconto full attack speed Ok dicevo Sono le 6 e mezzo Noi probabilmente vincevamo Noi probabilmente vincevamo